È il trittico di San Giovenale, l'opera prima datata a 1442 e attribuita a Masaccio nel 1961 in esposizione nel piccolo museo adiacente alla pieve di San Pietro e Paolo a Cascia nel comune di Reggello a Firenze. Il grande maestro è messo a confronto con altri grandi del XV secolo da Beato Angelico con il suo trittico di San Pietro Martire a Filippo Lippi con la Madonna col Bambino. In questa mostra abbiamo cercato di portare quindi le opere degli artisti che furono intorno a Masaccio nei primi anni della sua formazione, partendo da un grande artista che è qui, che è Gerardo Starnina che portava grandissime novità al suo ritorno dalla Spagna, oppure Lorenzo Monaco, un maestro assoluto dei primissimi anni del Quattrocento e della pittura tardogotica, ma anche Bici di Lorenzo che fu maestro per tanti artisti e anche che gravitavano intorno a Masaccio. Un'esposizione è nata grazie al progetto Terre degli Uffizi che vede le gallerie insieme al contributo della Fondazione di Cassa di Risparmio di Firenze presenti in vari comuni della Regione Toscana attraverso l'esposizione di opere d'arte. Chi avrà l'occasione, e invito tutti a venire a vedere il Museo Masaccio di Cassa, il Trittico di San Giovenale avrà anche l'occasione di incontrare un territorio splendido dove ci saranno bellezze naturali, culturali, egonogastronomiche, quindi un'opportunità per noi per promuovere il nostro territorio.